Venga con me che le spiego, le faccio vedere qualche caso. Venga, venga, venga. Tu, adesso WhatsApp, ma che magari? Ecco, spieghi. Ad esempio a lei piacerebbe avere la versione gold. Legga, legga, legga. Allora, ehi, finalmente è arrivata la versione segreta di WhatsApp. Proceda, proceda, installi. Ma, installa, segua il link. Installa il link. Guarda che bello, installato. No, e invece no, e invece no, no, no. Perché lei ha appena installato un virus. Ma come un virus? Non bisogna fidarsi di queste cose. Bisogna sempre, sempre, sempre installare le applicazioni solamente dagli store ufficiali. Leggiamo insieme. Allora, gentile utente, sta per ricevere uno sconto da 200 euro. Lo voglio! Ma per sconerlo, faccia attenzione, legga bene, deve rispondere a un sondaggio cliccando sul link. Lei clicca? Link! Clicchi. A questo momento in poi, lei pensa di avere il bonus, in realtà è pieno di virus. Ancora? Pienissimo. Mi sento male. E allora io mi stimo e mi incoraggio a fare molta attenzione anche su Whatsapp.